musica 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 ma pensavo volessi andare la no 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 io l'ho messo da lì se andate in picchiata dovreste arrivare precisi ok sul palazzo centrale come fare a calcolarle queste cose scusami boh a occhio più o meno vado a occhio ha scritto su youtube come arrivare no ho toccato con i piedini sono morto sono un coglionazzo non molura no vaffanculo chris stanno sotto stanno sotto eh c'era davanti c'era davanti what what non entra nei golpi noccato sparano da sopra qualcosa dove ti sparano che vado in bocca io sto avendo problemi c'ho due colpi di pompa non ho capito dov'è bro qua 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 noccato merda c'è altre persone luccato mi servono un botto di cura raga no si devo ricaricare grandissimo ho fatto uno rio no mi messo il muro davanti mentre gli sparavo ecco volevo proteggere fabio che poi moriva per colpa mia io non ho colpi di aereo raga devo prendere le casse di munizioni rigatti nemiche avete col pdr perché non li ho li sto cercando nelle casse di munizioni trovati io mo lo ti do il questo ma considera ho capito di prima eh quanto hai detto al me no dico lo vogliamo pushare? vabbè quali domande vai che non ho materiale però dai che siamo i mastini wow wow stanno sotto stanno vedendo qua sotto 60 hp porca puttana troia stanno sotto marza ecco fatto eh mi sa che sto già morti da un pezzo quelli che ti hanno fatto io mi curo si si ci sono delle pozzette piccole in giro boys senior 6 posso vai 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 dividiamoci le mollo mo della ridò eh non vorrei mettere pressione psicologica ma ho 30 colpi di aereo vieni qua vieni qua delito io ho la metà dietro di noi dietro di noi e ma anche qui dentro ragazzi si è chiuso si è chiuso oddio l'altro ce l'ho davanti maestro ti amo non ho preso bene il cazzo qua non ho materiali non ho materiali raga devo andare a formare materiali no 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 che cazzo vuole la pistola come stanno stanno alla casa dove stiamo noi sopra sul tetto ah ok hittato tre volte devo curarmi devo prendere dei materiali io non posso buildare wow ah ma era da te mollo non era sul tetto ah cazzo è sotto di me si è buttato eh non so dove sia ora cazzo mollo se me lo dicevi io pensavo ancora sul tetto ti avrei salvato ti avrei salvato perché sei riuscito col pompa bravo marza ragazzi perdonatemi ma è bene a me che colpa è tua no è colpa mia invece devo infliggermi delle pene corporali adesso io sono qua fermo non mi muovo eh rimango qua nascosto sorry c'ho marza cerca di portarti a 50 hp che c'ho il falò no tranquillo tranquillo c'ho le bende e le poste eh si si dico c'ho il falò però ci folliamo poi vai pompa vediamo che dati prego dammi le poste no ma è verde non può darle poste ce l'ho davanti ce l'ho davanti bro o dove 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 vedevo power merda un e one shot eh uno e a terra ero due lì ah ah gli altri stanno via destra uno da dietro uno da dietro non mi spara due a terra buono lo vedi paura finiti finiti no 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 non sono finiti no no sto finendo gente a buffo io eh l'altro io credo sia andato nella casa vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua bro vieni qua dobbiamo giocare molto slow senza pushare le persone non dobbiamo pusharli molto giorno eh molto giorno eh che ecco che siamo siamo di meno quindi se ci prende da dietro a meno mettiamo due modi eh no ti ne mette proprio in cilenghiale eh no sì 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 ho capito che cosa volevi fare però pensavo la tirassi in me eh non potevo perché devo prendere pure quando la tiro devo raccogliere anche la cosa da per terra ah ok ho capito che cosa volevi fare capito metto metto l'impulsi e dopo averla lanciata prendo subito l'oggetto per terra così mi porta avanti mi ha proprio 200 e q fantastico così abbiamo così siamo gucci oh pozza da 50 eh no no la lascio la lascio ormai eh no però mi sa che in zona quello no 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 fuori fuori ah no ok un pelo è fuori un pelo di figa ok 17 Alex stanno sbombolando quindi probabilmente verso retail li vedo li vedo davanti a noi a 30 stanno stanno fai dandoci avviciniamo da dietro e li frulliamo vai questa è la foto che ci sta su chi è il merda spaccalo 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 occhio vittato vittato è andato dietro andato dietro la casa uno ce l'ho davanti un altro colpo va un altro colpo va morto si perfetto vittati è un animale è andato dietro più o meno dove una colla una colla purtroppo non lo so credo dietro di te mi devi coprire a marzo dimmi da dove vengono io spara con gli altri o dove ma dai ma che zella è andato e lo so no ma ho sbagliato tantissimo gli altri sanno e lo so c'è un po' un po' c'è un po' è un po' sono 10 c'è un po' è un po' c'è un po' c'è il cecchino buono bravo io c'ho tre mediche si me ne devo prendere ora sei veramente un mostro comunque allora vediamo come possiamo risolvere questa situazione è un mostro dici minchia di fatto una roba stavate parlando di me 1v2 situazione boys 1v2 situazione power trying to shine here e so the opponents opponents are standing still che nessuno si aspetta uno dei migliori player italiani ragazzi vediamo come si comporterà in questa situazione l'avversario bilda ma non materiali non sono abbastanza materiali dalla regia ci comunicano quattro uomo in sinistra è uguale sciogliere la tua attenzione non riesce a pittarsi 6 a mania che cazzo stai facendo manaccia via l'avversario non ha capito nulla non sta neanche giocando a fortnite dicco di giorgia e la chiudiamo così let's go ciao youtube ciao youtube veramente un mostro magico il power giustamente quando faccio le partite di merda le cariche un pezzo di merda grazie a tutti